La prima isuermana. Andiamo a vedere. Anche questa è una figura di rueda, ma se noi ce l'alleniamo mentre la balliamo in pista, siamo già pronti per quando si forma una rueda. Un, due, tre, cinque. La prima isuermana. Un, due, tre, cinque, sei, sette. Un, due, tre, cinque, sette. Un, due, tre, cinque, sette. Andiamo a vedere come funziona. Ciao, siamo Cristiana e Elena. Abbiamo insegnato ballo per moltissimi anni e ora lo facciamo online. Abbiamo creato Salsagaia.com, la scuola di ballo online per imparare salsa, baciata, chizomba e molto altro direttamente da casa tua. Andiamo al video. Enciufla. No, che dico, enciufla. Un, due, dille che sì. La prima isuermana. Quindi la prima, come abbiamo spiegato nell'altro tutorial, passo sotto la chiamo. Un, due, tre. Io incrocio ma potete anche camminare. Cinque, sei, sette. All'otto mi giro otto e inciuflo. Un, due, tre. Cinque, sei, sette e uno. Vediamola di seguito. Piano, piano, apertura. Un, due, tre. La prima isuermana. Chiamo, due, tre. Cinque, sei, sette e mi giro e inciufla. Tre, cinque, sette e uno. Tre, cinque. Facciamo vedere anche di qua. E uno. La prima isuermana. Cinque. Chiamo. Un, due, tre. Passo sotto, sei. Ciufla. Un, due, tre. Cinque, sette e uno. Tre. Tutto con la musica. Lasciaci un like, iscriviti al canale e attiva la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornato su nuovi video in uscita. E se hai una domanda, perché no, mettila tra i commenti. Noi saremo felici di risponderti. Soprattutto se conosciamo la risposta. Eh già. Se invece vuoi avere accesso ad oltre 600 video lezioni divise per discipline e per livello, visita il nostro sito. Salsagaia.com. La tua scuola di ballo online. Oh yes. Musica. O. Tre. Prima isuermana. Oh. Tre. Cinque. Sette. E o. Di là. La prima isuermana. Oh. Sotto. Cinque. La. Enciufla. Passeala. Motala. Motala. O. Coca-Cola. Pepsi, anzi. Ciao, allenatevi. ne. Musica. Grazie a tutti.